Ok, salve a tutti, sono EspiGiocchi e bentornati in una nuova sfida dei Lucky Block giganti in compagnia di Luca e Crypto che finalmente è tornato fra noi e oggi affronteremo i Lucky Block giganti degli YouTuber cattivi, guardateli, guarda, 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 sono tutti diversi e ognuno di questi ha qualcosa di cattivo da cui dobbiamo fare attenzione e allora iniziamo questa sfida, buona fortuna e vinca il migliore, chissà cosa troveremo Certo, ovviamente, starò attento, uh, c'ha degli stivaletti, buoni, buoni, cosa hai trovato? Oh, hai una bella spadina, cosa gigante, Luca, ti vengo da una mano, ti do una mano, non ti preoccupare, maledetto, maledetto, oh no, aspetta che lo spingo giù, uh, Luca, penso di aver trovato un'arma molto forte, ho shottato Sam in un colpo solo, porca miseria, porca miseria, e lui ha shottato me, e quindi, vabbè, siamo pari, mi ha ucciso di nuovo, ma come Luca, ma continua a sporare cose cattive da me, tutta roba bella, vero male, eh, cosa ho trovato? Una pozione, mi piace un sacco di qua, oh, cos'è questa fa, ahia, maledetto, aspetta, oh, no, oh, però io ho colpito lui, perfetto, possiamo continuare, Luca, è un po' pericoloso, ecco, una ti ha riuscito, blocco, eh, l'hai preso, l'hai sbloccato tu, adesso, devi prendere, uh, dai, Luca, vagli in colpa, porca, ho usato l'occhio di ragno, non volevo farti del male, avevi pochissima vita, ho ancora bisogno di una mano, da queste, uh, degli stivaletti, direi che io ho bisogno di una mano, porca miseria, sei tu l'esperto, io mi sento, io mi sento abbastanza, abbastanza forte, aspetta, che forse riesco a farlo cadere, dai, proprio, spingerlo giù, eh, guarda che qua c'è un bel biscotto, dai, portalo, portalo giù, portalo, oh, mio, mi sono invertiti i comandi, sai che mi ha invertiti i comandi, dannazione, Luca, io, forse, forse tu, sono io, ma sì, hai degli stivaletti maledetti, aspetta, aspetta, tiralo giù, eh, tiralo giù, ah, dannazione, ah, mi colpisce, però non mi fa granché, Cioè, diamo una mano a cripto, va? Eh, sì, certo, che abbiamo ancora la prende, oh, no, Luca, così fatto, Luca, sono volato via, hai visto che ha funzionato, eh, tutto posto, sì, certo, però tu continua a darmi, ah, non hai più gli stivaletti maledetti, per fortuna, ho infatti tornato normale, cos'è tutto questo casino, oh, porca miseria, Luca, fai pensare a questi blocchi, sono maledetti, uno, l'ho presa io, sì, l'ho presa io, cos'era? Ho trovato una spada, eh, vabbè, ma tutte le spade, ma sono invisibile, ma quanto lunga è sta spada, ma è spettacolo, Oddio, eh, raga, cripto, ti sei lanciato giù, hai paura del tuo clone cattivo, non ti preoccupare, te l'ho sciatto, io, tannazio, ok, l'ho buttato giù, ah, è soccaduto anche, non ci credo, sono troppo stupido, uh, un bel elmetto, mi piace, ma che bello, ma cosa è quella cosa, la mia, oh, no, c'era un qualcosa interessante, tu l'hai fatto esplodere, c'è un mini, ecco, cosa c'è di interessante, eh, vabbè, te l'occupi, tu, scuaggia, porca miseria, si fa male, pregilo tu, colpiscilo, 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 Vieni qua, stupido, oh, no, oh, no, colpisci, luca, bravo, bravo, colpisci, luca, oh, guarda come ti mangia, guarda come ti rosicchia le caviglie, va bene, ok, questo non è abbastanza forte, ma questa, uh, questo ti fa male, ma mi stai, mi stai confondendo tutto l'inventario, ops, che brutto effetto collaterale, Luca, non riesco a prendere in mano, sarebbe un peccato se continuasse questa, Maledizione, vieni qua, vieni qua, dai, non riesco a prendere in mano la spada, eh, raga, no, cripto, porca miseria, ma cripto cosa sei diventato, cosa hai in testa, eh, vabbè, oddio, forse ti conviene correre, forse ti conviene correre, cos'hai testa, no, no, non lo so, te, oh, credo, no, vi siete, oddio, raga, oh, te, no, è cripto, porca miseria, hai visto, hai visto, è ancora vivo, sono ancora vivo, E dai, prosto, espi, io, vado, voi fate quello che mi pare, io vado a prendermi tutte le cose preziose dentro la torre centrale, ma, vieni qua, le voglio io le cose preziose, ah, perché sono caduto nella lava, cos'è una trappola questa, forse, anche tu sei caduto nella lava, non è un peccato se qualcuno ti confondesse di inventare un'altra volta, no, non mi confondo, no, perché, sì, sarebbe un peccato, metti là che non riesco a salire le scale, ah, dannazione, voglio salire io le scale, Tu sei trovato, Luca, guarda un po', ciao, ma lo stesso almetto di cripto, l'hai copiato, maledetto, ma, era qua dentro, vediamo come te la cavi, ah, 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 uh, a cadere così, disgraziato, adesso ci penso io a te, no, no, niente, tnt, Luca, niente, tnt, non possiamo rovinare tutto quanto, no, 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 li ha accesi, maledetto, via, 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 oh, no, sono caduto nella, eh, va bene, ciao, Luca penso di aver trovato l'arma più potente della vita, Io ho trovato tutta la copricola di dici cattivi non sei cosa ho trovato questo tipo più più effetti che non Lo so che altro ma basta la smetti di trovare spade te li fa sparire Hai visto Su di te Mi ha fatto niente ma mi sa che abbiamo tutti armature molto molto forti però almeno questa Luca è un bel pò di knockback e vediamo come la cavo contro luca bye bye Guarda che io non cado come non cato e sei quasi è peccato che la sabbia quella dai luca scusa mia adesso ti vengo da una mano Ti preoccupare Mamma sparita in un attimo ti piace Quella è una spada quella spada laser tu aspetta l'ho presa io non ti preoccupare ti do che ne dici se graffiamo un po Il tuo laki black luca Aiuto vai vai luca Mi sa che questa volta dobbiamo salutare Mi ha buttato giù Cosa stai facendo qui sotto e luca tu così trovato Ai aia smettila no no fai bravo fai bravo che è questa Oh no oh no cripto Guarda che carino cripto lo possiamo tenere lontano Sei sicuro di potermi tenere lontano guarda che non ci metto tanto Ti vedo soltanto salta salta Dall'azione ci provo un sacco No 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 Gatto cattivo Gatto cattivo Oddio raga Prima poi mi avvicino luca Sei soltanto rimandando la tua morte E ora che è tutto l'inventario il casinato Non puoi far nulla Che mi stai seguendo Cosa sta succedendo Cosa hai in testa Cosa hai trovato Ah un coccodrillo mi ha lagato la casa Era un alligatore Come una cosa C'ha appena C'ha appena lasciato una di tutte le sue pessime battute Dove ha dato Il se n'è scappato E' dato qui mezzo la lava Prendilo prendilo E' un piccolo cieco cripto E' un piccolo cieco Non è vero Non è un piccolo cieco Ci vede benissimo Ci vede benissimo Vieni qua No L'inventario Ender Pearl Via No Se n'è scappato via Come fa a essere così forte Eh raga Eh venite su Ok arrivo Anche io un po' di Ender Pearl Oh vi vedo Sitali in cima No Cripto Qui non si troverà mai E' caduto Adesso No 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 Eccomi No 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 cosa Seguimi Vieni Seguimi No No Non puoi scappare da nessuna parte No Dannazione c'è un altro Porca miseria Via 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 Vi seguirò anche nel nether Dove siete finiti ma Oh eccomi qua Non siamo mai finiti nel nether Vi prendo anche nel nether Vi prendo anche nel nether Vieni qua Vieni qua Io non ricordo da dietro Cosa No Infatti me la sono subito presa con crepto Vieni qua Vieni qua No Qualcuno mi metterà scombinato Vieni qua Anche io ho le super spade Eh certo voglio vedere come te la cavi contro questa Ti fa sparire questa spada Ti fa sparire questa spada Smetti di seguimi Maledetti Luca è andato e ora tocca a Cripto No Ok Cripto 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 si è fatto un bagnetto nella lava Ma ora tocca a Luca Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vediamo chi sarà il vincitore di questa sfida del nether E ora ti prendo No No non ha funzionato Invece la mia tattica ha funzionato Gente ci rivediamo sui lucky block Luca guarda cosa ho trovato Cos'è? Secondo me ti piace questa cosa Ho scritto che è completamente invisibile Sono qua Guarda ho trovato Nooo Ma come? Ho trovato un bugnetto Nooo Ho trovato un mango Luca Ti piace? Oh io toro il mango D'accordo no Tu mi scambi qualcosa Fa il mango Non lo so cosa faccia il mango Mango io Ma cosa è che vieni qua Vieni qua Vieni qua Che ti prendiamo È qui sopra Lo vedi? Lo vedo il suo nome No ti spiego perché non lo vedo Espi vieni qua Fermati un attimo Si è duplicato il mango Mangia il secondo che mi ha dato Davvero? Oh mio dio Non vedo nemmeno più critico Ma è fastidiosissima queste cose Abbiamo troppa vita Cosa stai facendo sul mio blocco? Casino Guarda che pericoloso Casino Ma il mio blocco non è il tuo Ah giusto Mi sono confuso Non pensavo Aspetta che faccio sparire questo Espi Mamma mia Appropriatore in debito Cos'è stato Eh vabbè ma Qui ci sono Armi belle Oh finalmente Ho l'armatura Completa Oh Guardate che spettacolo Sono belle Ragazzi ho fatto casino Ragazzi ho trovato il martello Oh no Cripto ho trovato il martello Cosa hai in mano? Guardalo Provalo su di me Cripto? Oh Padonnazione Lo sapete che anch'io però posso Colpi Oh no 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 Come fai a colpi Ma aspetta ma io posso volare? Ma come Oh mio Dio posso volare? Oh sì E io ti colpisco a distanza Come fai a colpire a distanza con quel blocco Di davanti Ma anche senza guarda senza mani Ma cosa volete detto Il potere del mango è troppo forte Sì ma Crypto ti conviene concentrarti su Luca Per ora io posso volare Oddio cosa sta succedendo Crypto mi sa che è finita per te E anche per tannazzi Al mango no 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 Vieni qui Lasciami stare Ma SP Crypto è letteralmente una fiamma Guarda che carino che sei Crypto E tu tra poco sei morto Quel martello è veramente OP Porta miseria Sì ma io posso volare Crypto Non farmi arrabbiare Cosa c'è Crypto? Cosa vuoi provare a fare? Ma tu lo sai qual era il gioco preferito da Trump Da piccolo Ma è sparito Crypto L'hai ucciso Con una bottiglia Ok io non voglio stare vicino a te Sei pericoloso Con le bottiglie Era spaccata quella bottiglia Oh sì sì Questo quarto Lucky Block Mi sa molto molto affortunato Cos'è questa cosa? Oddio no Andiamo Andiamo Non sono trovato È una spada Ah Chi è che mi colpi Chi è che mi colpi Cosa? Cosa? Dannazione Cosa ci fai lì? Vieni qua Se il coraggio è il posto che bersagliarvi da lontano Vieni qua Dai dai Vieni vieni Guarda lì Certo che arrivo Guarda ti piace Boom Oh oh Il mio inventario No cosa sta facendo Luca sta spammando Vieni qua Vieni qua No 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 Aia Dai Vuoi che scombino anche il tuo inventario Crypto Boom No Ma così mi uccidi Ma come? L'ho shottato? Non volevo È un mostro adesso ci penso io Crypto No no Scusami Cioè non pensavo che fossi così E devi dostare un po' di armatura Crypto Due No al mango no Non tirar fuori il mango Vabbè io ti colpisco prima che tu possa tirar fuori il mango Prendi questo Prendi questo E ora Un pecco No puoi volare No puoi volare No No Vieni qua Vieni qua No non farlo Vabbè detto Non riesco a entrare Ti prendo Luca Fosse l'ultima cosa che faccio Vieni qua Dai 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 dentro Attento che c'è Crypto qui sotto Attento Crypto che Luca è in alto Sei camperato E non vuole uscire No guarda Espi le stelle cadenti Dai colpiscilo No non così Devi mirare più verso Ma Crypto ma ti sei ucciso Eh vabbè Crypto è andato Devo vendicare Crypto però io No Vieni qua Vieni qua Oh Invece sì No mi sconfussato tutto Ah Mi spiace Mi spiace Il volo Come è il volo Ma non ce l'hai più il volo Come stava Piatti sempre i blocchi di sabbia La sabbia non ti legge Dove siete? Eccolo No Vieni qua No No Mi sta uccidendo Eh ci sto provando Vado aiutarti Crypto non è facile Aspetta che lo prendo Aspetta Aspetta Non sta colpendo Non sta colpendo Nessuno Crypto in realtà Come si usa l'arco Porca miseria Luca quanto rapido sei Luca Qui sotto si è appostato Vuole fare un'imboscata Mi sa Attenso Oddio no No Espi Ma Crypto si è lanciato nel vuoto Hai buttato tu Non volevo L'hai ucciso Provando a difenderlo Disgraziato Non l'ho fatta apposta Va bene Allora diamo inizio al duello finale Fra me e te E ora Siete pronti? Sì che siamo pronti Prontissimi Dai inizio Dai allora Alla sfida Dai crypto Cos'è quella cosa? Io uso questi Uno Vai Questo Vabbè Problema mostrato Che cosa? Hai lanciato la nucleare Oddio Oddio Oh mio Dio Esploso tutto Luca Cosa? Tutta un po' L'ho vinto io? Che cosa? Ah Credo che comunque hai vinto te Visto che sono bloccato in un teletrasporto infinito Come sei bloccato in un teletrasporto infinito? Cosa fanno le cose che ti ho lanciato? Quindi gente Questa è un'altra sfida dei Lucky Lucky Block Giganti In compagnia di Luca E crypto Un'altra Nei lanciano Un'altra Ma ne ho usato Le nucleari Diteci con un commento Chi secondo voi è meritato la vittoria E noi ci vediamo In un'altra sfida di Lucky Block Giganti La prossima volta Ciao Ciao Ciao